I primi a dire che non è possibile, siamo noi che stiamo realizzando questo servizio. Un servizio giornalistico che praticamente riproponiamo con incredibile puntualità ogni anno, ormai da molti anni, e sempre con nuove immagini che appaiono però uguali a quelle precedenti. È incredibile, incredibile che ancora accade, incredibile che ancora si ripeta puntualmente ogni anno, malgrado i nostri servizi, le segnalazioni giornalistiche, le rimostranze, le denunce dei residenti, ormai esausti. Siamo a Bivona. La situazione, di anno in anno, purtroppo non cambia, malgrado i tecnici comunali intervengano alla luce delle sollecitazioni che ricevono. Come testimoniano queste nuove immagini riprese al momento, continuano le fuoriuscite di acqua fognaria, e che si tratti di scarichi fognari lo conferma il cattivo odore che ammorba l'intera zona di via del pescatore della frazione di Bivona, proprio nel punto dove sfocia, poco più in là, il torrente Sant'Anna. Sono immagini che testimoniano la situazione attuale e che confermano come tutto questo va davanti da tempo, da troppo tempo. È un problema di natura igienico-sanitaria che rende la vita impossibile a chi qui a casa vive. Il terreno si trova nella proprietà di una famiglia che da anni denuncia lo stato di degrado di pericolosità, denunce telefoniche agli uffici comunali, quindi per iscritto. A questi sono seguiti sopralluoghi, interventi che però, come tutta evidenza, non hanno portato alla soluzione del problema. È fondamentale intervenire al più presto, soprattutto intervenire in maniera definitiva perché il rischio è che sia già tardi. Grazie a tutti.